I dati parlano e raccontano, in certi casi chiariscono e approfondiscono quello che è lo specchio d'acqua nel quale si riflette un paese ed un territorio. In questo caso diventa emblematico quello dato dalle richieste di cassa integrazione nelle Marche che, come denuncia CGL e Pesaro Urbino, sono aumentate di quasi il 50%. Stiamo parlando appunto di richieste di cassa integrazione, non di cassa integrazione effettivamente utilizzata. Infatti il dato che dovremmo poi indagare saranno proprio le ore di cassa integrazione che le aziende avranno utilizzato nell'anno 2024. Queste sono solo richieste. Però di fatto ci sta dando l'idea di una tendenza e degli effetti di un mercato produttivo che sta sensibilmente rallentando e sta sensibilmente subendo le dinamiche delle altre economie, a partire da quella tedesca, con la quale il nostro tessuto produttivo ha forti relazioni e forti rapporti. Dati, quelli sulle richieste, che diventano automaticamente specchio di quelli economici. La nostra economia è fortemente influenzata da dinamiche legate appunto all'export e anche perché poi la nostra economia è prevalentemente manifatturiera. Dall'altro lato è fortemente anche influenzata dal fatto che il venir meno anche dei bonus edili hanno prodotto ovviamente un effetto anche di contrazione, che non è una contrazione legata all'edilizia. Se andiamo a guardare il dato, infatti, l'edilizia forse è uno dei settori che ha meno effetti negativi, ma è legata, diciamo così, a tutte le altre economie che stanno intorno a quel comparto. Sappiamo benissimo che l'edilizia ancora nel nostro paese è l'elemento centrale di sviluppo e di crescita produttiva che lega anche altri settori, dalla metalmeccanica al legno e anche alla gomma plastica. La posizione della CGL appare chiara a riguardo. Per il sindacato c'è bisogno di politiche che possano capovolgere questi numeri, richieste che avanzano ormai da tempo. Noi chiediamo da tanti anni che i governi, purtroppo sempre inascoltati, che i governi inizino a mettere la testa sulle politiche industriali. Questo è un paese che non ha più politiche industriali da almeno 25 anni. Noi abbiamo bisogno di avere delle politiche che guardino in qualche modo al sostegno ai settori più dinamici dell'economia, che creino anche dei piani di intervento, anche pubblico, rispetto a dei settori che oggi come oggi sono i settori trainanti dell'economia, dall'energia alle nuove tecnologie, all'applicazione della digitalizzazione rispetto ai settori classici che però devono innovarsi anche rispetto alle dinamiche produttive e delle modalità di produzione. Abbiamo la necessità di guardare anche ai nuovi materiali, che devono in qualche modo essere più compatibili con l'ambiente, come anche ad esempio la questione infrastrutturale. Noi abbiamo la necessità di avere degli investimenti che guardino all'implementazione di tutto il sistema delle infrastrutture viarie, a partire anche dalla rete ferroviaria. Di fronte a questo il governo invece va a togliere le risorse per il potenziamento della linea del tratto anche di trapeso refano della nostra ferrovia, che era un pezzo di quella direttrice che doveva collegare la costa adriatica della nostra provincia con il centro d'Europa. Credo che queste siano scelte sbagliate, che di sicuro non aiutano il sistema produttivo e anche lo sviluppo di carattere produttivo e occupazionale del nostro paese.